Il Natale alle porte, per chi la percepisce, è anche tempo di tredicesima, utile fino a qualche anno addietro per fare qualche regalo, dei viaggi o per acquisti importanti come un'auto nuova. Quest'anno però ben pochi potranno sorridere al Natale grazie alla tredicesima. Questi soldi, infatti, non hanno fatto neanche in tempo ad entrare nei portafogli degli italiani che subito sono stati in parte versati per il pagamento delle tasse. Anche i nisseni hanno versato parte della tredicesima nelle casse dello Stato e in un periodo di crisi come quello che stiamo attraversando, quel che rimarrà sarà utilizzato per acquistare dei doni ai più piccoli e regalare loro un sorriso. Non so proprio, penso pagando le tasse. Come la spenderò io la mia tredicesima? Ma sicuramente penserò solo a mio nipote e ai miei figli, anche perché non è tanta la tredicesima di quest'anno, quindi pensiamo ad altre cose. Non è sufficiente per coprire le spese che ho e basta, non commento. Il regale ai figli, che è la prima cosa, e poi il nipote, perché c'è il nipote, parlo dei figli, c'è un nipote abbastanza grande, quindi un regalino a ciascuno. E soprattutto, di volta in volta che io e mia moglie facciamo questi regalini, le nipote se le vende un'auto per chi colore, ci diamo i soldi così loro le spendono come le credono. Queste sono le spese più importanti sia per me che per mia moglie. Poi il resto, eventualmente, qualche viaggio con qualche agenzia, abbiamo tre agenzie qui a Cartanessetta, Nutri di fare nome, e ci rivolgiamo a una di queste agenzie, se va bene sia la zona, sia il giro che si fa, facciamo pure quello. Il resto è a casa tranquilli. A tredicesima è pochino, non è tanta quello che prende la pensione, quindi ci andiamo piano. Lo spesa già, con l'Ivo e con il regaluccio che faremo ai bambini, non possiamo fare altro perché non rimane niente. Sicuramente per le tasse, è un periodo un pochettino brutto, quindi sicuramente per pagare qualche tasse in più che il governo ci ha messo. Già se n'è andata, con le tasse, l'assicurazione, regali e via di seguito. Già l'ho liquidata. Io non ne ho tredicesima. Io non la spendo la tredicesima. No, decisamente, essendo una libera professionista non ho tredicesima. Il problema è incassare quello che si dovrebbe incassare dai clienti.